I sospetti sono nati quando hanno messo a confronto il suo tenore di vita rispetto a quanto dichiarava il fisco e questo ha fatto scattare le indagini alla Guardia di Finanza che ha messo sotto la lente di ingrandimento la vita di un imprenditore di 60 anni originario di Giuliano in provincia di Napoli, ma trappiantato in riviera. Gli investigatori hanno scoperto il suo stretto legame con il clan Mallardo anche sulla base delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia. L'uomo era già nato alle forze dell'ordine per bancarotta fraudolenta, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori e reatti fiscali nonché ritenuto soggetto socialmente pericoloso e considerato una figura rilevante nell'ambito del panorama criminale tra le province di Pesaro e Rimini. Le indagini delle fiamme gialle hanno portato alla misura di prevenzione patrimoniale disposta dal Tribunale di Rimini che ha permesso di mettere sotto sequesto tra le province di Rimini, Pesaro e Napoli immobili, quote societarie e rapporti di conto corrente per un valore complessivo di più di un milione di euro. Le investigazioni patrimoniali hanno infatti permesso di accertare un rapporto di particolare sproporzione tra i redditi dichiarati dallo stesso e dal suo nucleo familiare e il patrimonio immobiliare e immobiliare riconducibile alla sua effettiva disponibilità che di conseguenza è stato sottoposto a sequestro in quanto ritenuto acquisito con proventi frutto di attività illecite. Grazie. Grazie.